Ragazzi bentornati su Dragon Age Origins Allora sto registrando ancora inserire gli altri due Quindi Dei commenti così poi li vedrò dopo Il gioco mi sta prendendo E così riesco anche ad essere un po' Dentro con la testa Senza dimenticarmi le cose D'una volta o con l'altra Entriamo nella torre Vediamo cosa ci aspetta Sicuramente Della prola oscura Non li vedete dove sono Non so se va al canale Dove è una runa Era una runa Ma non è iniziato a dire poco in poche Eh è una palla di fuoco Quindi hanno anche una specie di mago Qui Parciere Un bloc normale Semplicemente esplodere Magari hanno una qualche macchina da sedi Allora 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 Quel più Perfetto Adesso ho deciso di far pescare Anche lui Anche lui Eh, stanno rendendo Vediamo se posso salvarlo così Tu dove sei? Ancora qua a lottare No, non ce l'ha fatta Alistair Ecco, nella tattica posso Non so se posso aggiungerne però E non è fatta Dove fare la personalizzata che Da l'impiastro Quando la salita Posso finire tutto Ecco, a questo posso darlo Per esempio Personale Salute Per esempio Per esempio Per esempio No, non ce l'ho Ok Non mi ha da aiutare Ok Ah, la salmato Ah, la salmato Lui vuole attaccare con scudo Però L'attacco con scudo, fallo la Non so Non so se è il caso di prendere un impiastro Se se la fai L'attacco così Sto andando Può farmi male Sto andando Vai, vai, vai Sì Questa è un' altruzione E' un' altruzione Non c'è un' altruzione Non c'è un' altruzione Non c'è un' altruzione Si ragionato con l'Ale Non c'è un altruzione Di sari Alore Il capi branco Intelligenti E tra l'altro Prattimente Spesso hanno la funzione i comandanti e persone generali in una serie degli armi e i compagni in genere hanno un flagello ma parlano e... dicono la magia che c'è ancora? ok, non doveva rinascere il cane cazzo, ma tutti bloccati, porca puttana bene, un po' di piastro mentre altri in giro non ce n'erano sono un sbaglio qui c'è una stanza, qui c'è un'altra stanza vediamo un attimo la mappa qui si chiude, quindi parte da lì, si poi andiamo verso di là salvo, devo ricordare che alla fine degli scontri è sempre salvato guarda che non ho macchiato questo sembra alciera c'è anche la spada oh no che è un po' d'avordo è un po' d'avordo l'ultimo l'ultimo e due e due è un po' d'avordo uno di te lo devo stordire cazzo mi ha bloccato lui guardiamo un impiastrino forte questo stronti cazzo ce ne sono altri no 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 non mi starei no 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 non va bene sta prendendo il impiastrino in modo sbagliato cazzo 25% non andava giù così tanto è uguale o minore non ho capito questi qua da dove sono usciti dall'altra stanza tutti che vuoi funghi allora fammi vedere un attimo qua la mappa è un attimissimo comunque passando con la porta lì dov'è essere la stanza che si vede dall'altra parte balsamo spirituale bracciale d'argento è un dono bene per qualche donna non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno cioè se quel baul è lì non c'è nessuno cazzo lo c'erano lì però eh sì è uno cicli qua non c'è nessuno non c'è nessuno lo riminacere verso gli arcieri si era sbagliata l'impostazione perché adesso il mago non l'ha presa ad esempio l'aereo un attivoso di questi non piaci gli altri non hanno lasciato niente volete pasciarlo lì, gli altri non c'era bene vediamo un secondo piano non eravate voi che potestevate perché volevate combattere ehi, sei certo, credo c'è una linea d'acqua qui se pensi comunque, bisogna riuscire a riuscire bisogna riuscire al top della torre e aprire il foglio di signale in tempo Terran Loghain sarà aspettato per il signale cazzo, ma uno aperto allora, qui ci sono due porte, una lampa stanza chiudo e stanza chiuse, va bene a la misa estesa un po' di po' di... da questa porta qui ci va nella stanza principale immagino andiamo a vedere una quella di là ma non ma pa questo l'ha messo in vera ah, no, 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 no chiara, fatti ultima metista la scuola che vendiamo ho un pronto soccorso a proposito Andrea è ferito il cane è ferito ok ok cazzo, ce ne sono altri mi fanno il male, forse ok 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 Allora voi andrete contro questi Io vado a stenderne uno là Ok Oh Oh Fuckin' fjg Oh 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 Cazzo, mi è rimasto neanche l'agra Ce la farò con l'energia Proviamo, dai, tanto non Non rischiamo di perdere Andiamo, c'è un po' di roba Ah, c'erano le baliste per farvi fuori Un libro Storia della chiesa Beh, questa, ragazzi, se ve la volete leggere Allora, questa qui Immagino fosse la porta di prima Sì Salvo Cazzo, ce n'è le baliste per farli fuori Non è visto Allora Allora Arciere, arciere, immagino Allora cheaa non è così facile e ci stanno andando tu qua per me giu o nino Ah ok era attivato Ok ok ho capito si attiva da solo Chiuso con gli altri Il piastro è fatto di maglia in ghisa C'è altro? Terzo piano terzo piano vediamo se riusciamo a farli tutti in questo video Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal The king is depending on us Puglia di ossa Nascia C'è qualcosa? No Ma ci sono sempre quelli del cerchio Parto da quelli perché da dietro rompono veramente i coglioni Puglia di ossa 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 Come usere Sparalunga 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 Ah, sono in tanto Sparalunga 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 e 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 l'armatura le sostanze sono chiuse vediamo l'ho buttato per terra però Alistair ha buttato per terra e 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 il cane vediamo un po' vediamo un po' si anche lui lo lascio bilanciato per adesso e 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 un po' un po' di dinero dov'era? e 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 bene bene e 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 c'è altro? no solo lì riusciremo a stordirlo? e 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 questo fa male anche a noi non c'è un'importanza e 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 se li stanno mangiando? se li stanno mangiando? e 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 dovremmo farti il culo allora avanziamo di livello sempre bilanciato ah qui abbiamo la possibilità di scassinare dunque scassinare a rubare che credo possa dipendere da questi talenti aumenta sopravvivenza ci vuole tanta forza attenzione con scudo con scudo mettiamo ancora l'arceria adesso comincerò ad usare la devo ricordarmi eh il primo volo che si apre è un arcovolo grazie Morrigan anzi grazie alla madre adesso qua stoppo eh si non si apre subito il filmato eh po' cazzo vabbè stopperemo alla fine del giusto non lo so 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 eh sì dunque perché ci avete salvati non lo so 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 certo che no non lo so ma non lo so non lo so non lo so Esattamente cosa è questo arcidemone? C'è il teressore di questo flagello? Questa è stata una persona che ha fatto. Se il Arl Eamonn lo ha fatto a Ostagar, sarebbe stato il primo per il suo esecutio. Questa è stata una persona che ha fatto a Ostagar. Questa è stata un'amore. Certo, potremmo andare a Redcliffe e appellare a lui per la scuola. Tutti verranno al pericolo che pregge la comporre, giusto? Non so se come per contattare loro, o se si sono in modo da loro. Dobbiamo fare qualcosa ora. Tu hai più a tua disposizione, che credi. Questa è una squadra di Dwarves, Elves, Mages e altri. Questo sembra come un'armia per me. Quindi possiamo fare questo? Andate a Redcliffe e a questi altri paesi e... builde un'armia? Quindi siete pronti, pronti per essere gredi. Altro aiuto? Idea eccellente. Perchè? Perchè? Molto bene. Perchè? 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 Grazie a tutti.